Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video Io sono Tassim3030 E si, dal mio torno credete, direte, ma ultra Ma che minchia gli sta succedendo? Lo dico io esattamente Io stavo facendo l'index delle visioni finali Stavo pure per registrare ma ho deciso di fargli stoppare Perché ho scoperto una bella cosa quando ho perso nell'index Per riconquistare Niwa Che quel grande cervello mi do Come posso, non so come sparare l'offesa Ah si, quell'ammasso di rilottami Rilottami truffatori di merda E mi dispiace pure dirlo Ha parato Praticamente se io entravo già morivo Ci guardate la più grande bastardaggine di sempre Ora noi siamo qua In una messa di spionaggio della queste Per fare che cosa esattamente Ora io ve lo spiego con una di quelle calme Che non si è mai vista Con una calma incredibile ma vera Praticamente cosa dobbiamo fare esattamente Dovremo Attivare tutti i computer In modo che poi alla fine Ovviamente alla fine Dobbiamo attivare tutti i computer In modo che così Quando gli faremo l'index Vediamo se ha ancora voglia di balare No proprio Voglio sapere se aveva ancora la voglia di balare Usiamo i cifert Alchiviato con eleganza Recupiamo tutti i dati Non dobbiamo fallire Oh sì la scende Scendiamo con calma ovviamente Andiamo su Bravo Io non me lo saremmo immaginato Che questo qua Ha fatto una truffa bella grossa Cioè io entravo E morivo Ora noi accadiamo Ora noi Accadiamo tutti i dati Sono i miei che si due Ma io gli accadiamo che si questa Tutti e tre Sempre se ce la faccio ovviamente Io accadiamo tutte e tre E poi vediamo se ha ancora La grandissima voglia di balare Oh Ecco Hai eseguito il piano alla perfezione Preparati per la prossima battaglia Nell'indice Che vedo Che i risultati saranno ben diversi Speriamo che i risultati andranno Diversamente Rispetto da come ho provato ragazzi Perché 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 Se entro in una stanza Per fare i punti Con i cristalli Che ottengo dopo un'uccisione Perché mi pare normale E vengo ucciso Subito Qui dentro E va E' un po' strano Potevo mettere gli occhi Ma purtroppo Purtroppo A me non ce l'ho più Perché Un mio compagno Me l'ha Elimina Me l'ha venduto Tanto so già Che questa è un grande Abbattatura Della cadastra Che chi se vuole Alarm Eva Che c'è una distruzione All right You need to hurry Oh tutti e tre Nessun fallimento Gordo, gordo come un maialino Guarda noi c'è andata l'estrazione Con eleganza Tutto qua questa parte 5 La parte finale Non è parte finale Vi dico solo questa non è la parte finale Allora Vi lascio in modo una roba Il video si conclude qua Si conclude qua Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mettete mi piace E commentate E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao